Siamo al birrificio Dada dopo la grande vittoria all'Italia Beer Festival, ci dite qualcosa su questa birra? Questa birra è una birra appena appena fatta, tra l'altro è una primissima cotta quindi questo ci rende ancora più orgogliosi. È una birra che nasce da un'idea di tirare fuori tutto il profumo e sapore dei luppoli che abbiamo utilizzato. Quindi una procedura, diciamo in bollitura, ma sui luppoli tutta la fine per cercare di tirare fuori appunto questo profumo e questo sapore. Ho fatto un grande lavoro anche sul profilo dei malti per cercare di bilanciare un po' questa nota amara e comunque luppolata. E' piaciuta e quindi mi sa che deve opportunitare birra ufficiale del birrificio Dada. E non potete mica toglierla adesso che ha vinto, non potete levarcela così. Sulle altre birre ci vuol dire qualcosa? Sì, noi facciamo attualmente 12 tipologie di birra, tutte alta fermentazione. L'idea è di cercare di lavorare su ricette, su stili normali, cioè standard chiaramente, però cercare un po' di rivisitarli un po' a modo Dada. Qualcosa su quest'Italia Beer Festival 2012 che vi ha incoronati, cosa vi sembra di questa manifestazione? E' il primo anno che partecipiamo a Milano e quindi che dire, grazie, siamo molto contenti, veramente. Grazie mille, vi auguriamo una buona continuazione. Eh, ci proviamo. Complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.